Ciao a tutti ragazzi, sono Corridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un gioco storico, che sì, possiamo dire che è storico anche questo, non a livelli di Hero, dei giochi dell'MB, ma ci siamo quasi. Vi voglio parlare di Dungeon & Dragons, un'avventura fantasy, edito dalla Parker nel 2003. Parker che poi è stata successivamente inglobata ed acquistata, tant'è vero che ormai non produce più giochi, direttamente dalla Hasbro. Si parla di un gioco da 2 a 5 giocatori, si parla di un gioco nato con l'idea proprio di portare anche un tributo, se vogliamo, al vecchio Hero, questo comunque è Dungeon Crawler di un tempo, e ricordo questo qui essere un gioco che è uscito nel 2003, e se non erro è durato dal 2003 al 2005, poi la produzione è stata interrotta, anche perché, ve l'ho detto, la Parker è stata acquistata dalla Hasbro. E qui davanti vedete il gioco base, in versione italiana, e le due espansioni, le uniche due espansioni che sono uscite, perché poi hanno continuato con la serie di Dungeon & Dragons, facendo Temple of Elemental Evil, ad esempio, Legend of Dritz, Ashardalon e tutte le altre che sono uscite, questo gioco qui ebbe due espansioni che sono l'Inverno Eterno, versione italiana, e la Foresta Proibita. L'Inverno Eterno che ci vede affrontare una nuova avventura sulle montagne gelate, dove ci sono ovviamente draghi e creature dell'inverno, e la Foresta Proibita, dove dovremo sgominare i piani di un druido impazzito, un druido diventato maligno, che un po' si è lasciato abbindollare dal lato scuro e una cosa del genere. E ve lo voglio presentare oggi, perché è un gioco raro da morire, ricercatissimo, bello, divertente, ma soprattutto la scatola base si trova, è come ero questa a livello di realità, si trova, c'è chi te la spara a un prezzo giusto, chi te la spara a un prezzo altissimo, però diciamo che si trova. Le espansioni, soprattutto in versione italiana, vi sfido andare su eBay a vedere quanto valgono queste due, in versione inglese, queste qui sono italiane, tradotte tra l'altro tenute benissimo, e ringrazio il ragazzo da cui l'ho comprato, che mi è avvenuto questo lotto tutto insieme, tra l'altro tenuto veramente benissimo. C'è arrivata a casa, le espansioni sono aperte, ovviamente non c'è il cellophane, sono ancora all'interno da defustellare. C'è un gioco del 2003, che dai, oh, arrotondiamoci a 20 anni, non stiamo a fa' tanto il conto, un gioco che c'ha 20 anni, c'è ancora da defustellare. Quindi, numero uno, grazie di cuore, e queste qui saranno ovviamente argomento di unboxing e gameplay di prossimi video. Intanto vi faccio vedere la scatola base. Unboxing, confezione del gioco, l'avrete visto sicuramente in tantissimi negozi, addirittura tutti i negozi di Livorno del 2003-2004 lo vendevano, e l'avrete visto sicuramente anche in qualche Lucca Comics. Comunque, Dungeon & Dragons, un'avventura fantasy, ed è un gioco da due a cinque giocatori dove bisogna sempre giocare in cinque, o se si gioca in due, un giocatore deve sempre tenere tutti quanti gli eroi, non si può giocare con un eroe soltanto. E c'è la componente Dungeon Master, quindi come abbiamo visto anche in Dungeon Saga, o come abbiamo visto anche ad esempio in HeroQuest. Non è assolutamente un gioco cooperativo, è un gioco dove il Dungeon Master muove mostri, e anche il disegno sulla confezione, molto bello, e poi, cioè, ragazzi, ripeto, un gioco del 2003, non è degli anni 80, però ditemi se non ci rimanda a quegli anni lì. Cioè, guardate, il classico, questo qui cosa sembra? Una specie di Minotauro, qualcosa di sicuramente, sono creature di Dungeon & Dragons che mi sono sfuggite. Poi, vabbè, un Beholder, o comunque una creatura del genere. Mia moglie mi suggerisce che dovrebbe essere un troll. Poi qui vediamo il classico eroe, che si vede un halfling, un umano, un elfo. Ci sono le classiche classi all'interno, guerriero, mago, chierico, e, insomma, veramente molto bella, colorata bene, il classico disegno fatto a mano di un tempo, pre-computer. La scatola era molto semplice, e all'interno vediamo i dadi colorati, che sono i dadi per le azioni, vedete, c'erano disegnate spade da una parte, oppure non colpite e cose varie, e poi c'erano tutti il resto dei dadi, che erano, ad esempio, il dado per trovare trappole, che era questo qui, il dado per disattivare e disinnescare trappole, perché c'era anche la possibilità di fallimento, il dado per il carico di scacciare non morti, e questo era un dado speciale che ti dava un effetto particolare, nel caso l'arma lo richiedesse, vedete, con la stellina per un effetto speciale, o con un niente di fatto, insomma, se non era successo niente. Poi c'erano dei token brutti, tondi, rossi, che stavano a segnare punti ferita, questi semplicemente segnavano i punti ferita, nient'altro, li dovevate mettere sulla scheda, poi altri piccoli token che vedete qua giù, che erano ovviamente il token per trappola disinnescata, e cose del genere, questi qui c'erano i token delle porte, ovvero porta aperta, e dall'altra parte porta chiusa, perché questa a differenza di Heroquest, non aveva elementi scenici in 3D, e poi ovviamente tutti quanti i mazzi, che comprendevano armature, armi, oggetti malci, ovviamente anche carte dei mostri, carte dei personaggi, vedete che ci danno la descrizione del personaggio, e quant'altro. La scatola, per quanto insomma non era grandissima, era piena di roba, poi qui ovviamente ci faceva vedere tutto quello che era uscito, e vi ricordo che al tempo, quando uscì questo gioco, iniziavano a circolare i manuali di Dungeons & Dragons, versione 3.5, io non l'ho mai giocata, mi sono fermata alla terza, e giustamente anche nel gioco venivano pubblicizzati. Poi, tile di gioco, componibili per la mappa, mappa ovviamente double fast, quindi da una parte, ah, era bellino per una cosa più di Iroqueste, strano detto da me, perché Iroqueste era tutto ambientato dentro un dungeon, questo no, questa volta era ambientato anche all'esterno, o magari in antiche fortezze e cose del genere, quindi ci dava un pochino più di varietà, alla scelta e di fantasia. Poi, guardate i tenuti ragazzi da paura, cioè sono nuovi, questo non l'ho comprato, praticamente è uscito dal negozio, poi qui la guida del Dungeon Master, quindi con tutte le cose, le mappe ovviamente, ve ne faccio vedere una a caso così, moro a non guardare perché potreste devo far giocare, tutte quante le mappe del Dungeon Master, con il setup, le trappole, mostri che devono sponare, molto nello stile ovviamente di Iroqueste, e di qua, tipo sei pagine, sette pagine, il manuale del giocatore, con tutta la descrizione, le azioni che potevano fare, e quant'altro. Si passa alla parte per me più bella, che erano le schede dei personaggi, che nel buon stile davvero di Iroqueste, erano grosse, dure e cartonate, erano dei mattoni, sembra quasi di rileggerci, tu sei il nano, oppure tu sei il barbaro, come Diroqueste, e ci segnavano ovviamente i punti ferite, i punti magia che avevano, l'equipaggiamento di partenza, l'abilità, e quant'altro. Qui dietro c'era un altro opuscoletto, che ci faceva vedere cosa c'era all'interno della scatola, e poi qui dietro ci faceva presente, che c'era anche il set di espansione, l'inverno eterno, set di espansione che abbiamo, e c'era una miniatura, la vedete qua giù in fondo, del Drago, molto in stile, proprio anche vista V, fine, fine 90, è proprio però, troppo bella da morire, e poi la scatola ragazzi, era piena zeppa di miniature, che ora ve ne faccio vedere qualcuna, non sono di qualità eccelsa, però ragazzi, ricordatevi anche l'anno in cui è uscito, sicuramente non è un prodotto del 2013, come Deep Madness, o giochi vari, però insomma, la qualità ce l'aveva, e non scherzava, ve ne faccio vedere qualcuna, guardate là, un bel chierico, non erano eccellenti nei dettagli, però sono comunque molto belle, sono tozze, sono grosse, danno proprio l'idea, della muscolatura classica, di un eroe fantasy, dell'80-90, questo è il chierico, un troll, o comunque un bugbear, qualcosa del genere, gigantesco, grosso, ti spacco la testa, un orchetto, che erano un po' differenti, se vi ricordate, anche in Dungeons & Dragons, Advanced e 3.0, sembravano un pochino, delle specie di lupi mannari in miniatura, più di quelli che siamo abituati a vedere, verdi, con le orecchie lunghissime, un fantasma, e poi insomma, c'erano tantissime altre miniature, dentro la scatola, che perlomeno davano un po' di varietà, ma come alla fin fine anche HeroQuest, i monster erano abbastanza vari. Allora, per farvi una descrizione di quello che vedete un pochino in campo, partendo ovviamente dalle schede degli eroi, qui abbiamo messo la scheda del guerriero, quindi quello classico, da corpo a corpo, mena, senza punti magia, e qui ho messo il chierico del gruppo, avrebbe potuto mettere anche la maga, comunque per far vedere la parte castante. Sulle schede sono elencati, come avete già visto anche nel dungeon del mago folle, che tra l'altro, ho già trattato sul canale, quindi comunque, quei giochi di D&D hanno preso ispirazione da questo, va bene, banale dirlo, e fanno parte della stessa linea. Sulle schede ci sono, valore di movimento, quindi di quante caselle si muove, non si tira per muoversi a differenza di HeroQuest, valore armatura, non c'è niente da attirare, praticamente lui assorbe sempre due danni, quindi ogni danno che li fate, lui ne assorbe praticamente due, quando li fate due danni, li assorbe tutte e due, e poi se li fate tre danni, a quel punto lì ne assorbe due, prende un terzo, che è un punto ferita al primo. E qui è la bisaccia, il numero di oggetti che può portare. Ovviamente gli oggetti si tengono sempre da una parte della scheda, mentre gli oggetti nella bisaccia si tengono a quest'altra. In questo caso qui, gli oggetti equipaggiati comunque non vanno nel peso globale, questo è il peso unicamente degli oggetti nella bisaccia. Poi si va nei punti ferita, e punti magia che vi faccio vedere dopo, comunque punti ferita del personaggio divisi per livello, quindi dorato per i punti ferita divisi per il livello 1, e noi li mettiamo sul massimale, ok? Su 8, quindi il guerrero ne ha 8, ad esempio il kerico ne ha 5. Poi al secondo livello, perché in questo gioco c'erano soltanto 3 livelli, al secondo livello gli arrivano sull'arancione, o comunque rosso, fino a 12, e poi sul verde fino a 15. Quindi il pallino iniziale nel setup va sempre sulla parte dorata di livello 1. Stessa cosa il kerico sotto, in più il kerico vedete anche di punti magia, uguale, sempre divisi per colore. Vedete punti magia a livello 1, livello 2, e livello 3. Quindi il kerico di partenza ha 5 punti magia. E sotto ci sono scritte le azioni speciali, perché ogni classe ha la sua azione speciale. Ovviamente azione speciale che, nel caso del guerriero, non gli costa azione, è soltanto un bonus, però nel caso del kerico ha delle vere e proprie azioni che gli chiedono appunto il tiro di un dado, come ad esempio scacciare non morti, che vi faccio vedere dopo. E qui accanto l'equipaggiamento di partenza di ciascun personaggio, con il livello livello 1, nel caso del guerriero la spada lunga, nel caso del kerico è un incantesimo per riportare in vita i compagni, quindi gli eroi deceduti, e un'arma o una balestra, perché il kerico di partenza ha una balestra. E vedete che sulle carte magia c'è scritto il numero di punti magia che utilizza, quindi questo ne utilizza 4, all'inizio ne userete soltanto uno nell'avventura, ma resuscita un eroe, quindi insomma mi sembra anche giusto usarlo una volta soltanto, mentre invece sulle armi vedete il tipo di dado che vanno a tirare, quindi in questo caso due gialli e uno nero che è speciale, nel caso invece della spada lunga tira unicamente un dado arancione, quindi nel kerico, per farvi vedere i dadi che userà il kerico con la sua arma, sono questi, i dadi che userà il guerriero di partenza fino a che non trova qualcos'altro, è unicamente questo qui, in media comunque il dado arancione più forte dei dadi gialli, come abbiamo visto in altri giochi. Poi qui abbiamo il mazzo grosso dell'equipaggiamento, quindi tutto quanto l'equipaggiamento che potete trovare in gioco, ovviamente pozioni, armi, armature, come abbiamo visto in altri giochi, in altri dungeon crawler, il mazzo dell'iniziativa, che vi faccio ora vedere, perché forse, forse fra tutte le meccaniche vecchie come il cucco di questo gioco, questa è la più bellina, e l'avrei utilizzata anche in altri giochi, vi dico la verità, è una cavolata però è bellina, e poi qua giù abbiamo i mazzi dei mostri, quindi ci sono tutti quanti mostri, ci sono tutte quante le carte dei mostri, che ho scritto il livello d'armatura, i dadi che tirano, i punti ferita e quant'altro. Questo gioco, a differenza di Dungeon Saga e HeroQuest, non ha assolutamente, non aveva elementi 3D, gli unici elementi scenici 3D erano questi cartoncini, vedete qui, che andavano uniti così, e formavano una colonna, nel caso ci sia una colonna nel dungeon, però che comunque blocca la visuale, cioè effettivamente serviva a rompere le scatole, ma serviva, e poi quando eravamo all'esterno, c'erano anche gli alberelli, fatti così, ed è un bellino, comunque sono cavolate ragazzi, ripeto, però servono, perché è meglio vedere una cosa del genere, che un token sul tavolo, quindi le azioni che si potevano fare, come in tutti i giochi del genere, erano sempre gli avventurieri, che hanno due azioni, due punti azioni per farvi capire, e con queste due azioni, potevano fare diverse cose, potevano fare anche due volte la stessa, e addirittura si potevano, che ne so, muovere, ah in questo gioco non ci si muove in diagonale, solo ortogonalmente, quindi anche per gli attacchi con i mostri, non si può attaccare un mostro, che ti sta in corpo a corpo, ma diagonalmente, si potevano muovere, cercare trappole, aprire scrigni, aprire porte, scambiare oggetti, lanciare incantesimi, ciascuno di voi poteva fare due azioni, e poteva fare anche due volte la stessa, e poi c'erano i token delle porte, come vi ho fatto vedere durante l'unboxing, che erano questi qui, in questo caso per porta aperta, e di qua porta chiusa, che venivano messi a cavallo tra una mappa e un'altra, perché il dungeon master all'inizio dell'avventura, metteva già tutta la mappa, come appunto HeroQuest, però voi non sapevate poi, se c'erano delle stanze, delle cose del genere, l'unica cosa che vi era data di sapere, erano unicamente, quando arrivavate in una stanza, dove era la porta, dove erano le porte, poi tutto il resto non veniva rivelato, perché nella stanza, ci potevano essere anche delle trappole, e le trappole, soltanto il dungeon master, nel suo manuale, che è questo qui, sapeva dove erano nascoste, quindi fino a che l'eroe, non camminava come HeroQuest, e non finiva su una trappola, il dungeon master non lo rivelava, al momento che finiva sulla trappola, ci veniva messo il token, veniva tirato l'effetto della trappola, o se no, un eroe, ovunque si trovasse, ovunque, in un tile di gioco, poteva andare a tirare il dado delle trappole, lo poteva fare unicamente la ladra, che vedete qui, perché aveva appunto, è il ladro, aveva l'abilità di cercare trappole, e gli altri eroi no, per questo vi dico, servono sempre 4 avventurieri nella partita, poteva andare a cercare le trappole, che è questo qui, il dado delle trappole, il dado delle trappole, ci faceva vedere un occhio disegnato sopra, che voleva dire, che era stata trovata la trappola, più vicina all'eroe, quindi nel caso ci fossero più trappole, magari una qui, una qui, una qui, e una qua, veniva trovata la prima più vicina, quindi nel caso il dungeon master diceva, ok, qui è trovata una trappola, nel caso uscissero i due occhi, venivano trovate le due trappole più vicine, quindi magari aveva trovato questa, e aveva trovato quella più vicina magari qui, nel caso uscisse una mano, voleva dire che non poteva più cercare nella stanza, cioè che aveva cercato abbastanza, e non aveva trovato niente, magari le trappole c'erano, però la ladra non aveva trovato niente, quindi quando usciva la mano, voleva dire, ferma, ora non puoi più cercare assolutamente, e nel caso per disattivare la trappola, uno dei movimenti, una delle due azioni, potevano essere, ok, mi muovo fino sulla trappola, lo faccio presente al dungeon master, e poi arrivando sopra la trappola, prova a fare un tiro di disinnescare, e veniva tirato quest'altro dado, in quest'altro dado, quando usciva una X, così con una ruota intorno, voleva dire che la trappola era stata disinnescata, se invece usciva questo simbolo qui, voleva dire che la trappola era scattata, scattando ovviamente la giravate dall'altro lato, per far presente che comunque era scattata, non era più una trappola che poteva ferire qualcuno, però guardando il manuale sempre del dungeon master, si andava a vedere che tipo di effetto aveva quella trappola lì, sul gruppo di avventurieri, di eroi. Altre azioni che si potevano fare, nel caso di un token con uno scrigno, questo qui, si poteva andare direttamente sopra lo scrigno, per fare un'azione non dovevate essere a contatto, è proprio andarci sopra la casella, e poi dire al master, va bene, io apro lo scrigno, se era un'arma speciale, il master ve la dava direttamente lui, se no andavate a pescare dalle carte dell'equipaggiamento che vi si è fatto vedere precedentemente, e avevate trovato quell'oggetto lì, oggetto che andava nella bisaccia, se la bisaccia era piena dell'eroe, allora bisognava scartare qualcosa. E ultimo, ma non meno importante, perché ora vi dico appunto il discorso che vi dicevo prima, della regola che è megarbata, rudimentale, ma megarbata era a morire, erano le porte, quando si arrivava davanti alla porta con un'azione, ovviamente con l'azione che rimaneva si apriva, perché aprire una porta costa comunque un'azione, la porta veniva aperta, e subito il dungeon master doveva rivelare quello che c'era nella stanza successiva nel tile, tutto quanto, forché ovviamente le trappole non le doveva rivelare, le trappole devono sempre rimanere nascoste fino a che uno ci va sopra, e doveva rivelare tutto il resto, quindi che ne so, poteva rivelare, avete una porta chiusa qui, avete una porta chiusa qui, per far capire quali erano le zone che si potevano visitare, poi magari avete una colonna qua giù, avete un tesoro qui, avete un tesoro qui, ma nel caso ci fosse stato anche un altro tesoro qua dentro, o ovviamente un mostro, perché ci poteva anche essere un mostro, non andava rivelato, l'unica regola è che non andavano rivelate stanze non ancora esplorate, quindi per quanto questo tile è stato rivelato, e quindi va rivelato tutto, le altre porte che sono chiuse nello stesso tile, fino a che non le aprite non potete sapere cosa c'è dentro, se no era troppo facile, ci poteva anche essere l'obiettivo della missione. In più il dungeon master doveva rivelare anche i mostri che erano dietro alla stanza. Il manuale diceva sempre, sempre chiaramente, che tipi di mostri venivano trovati, quindi non si pesca a caso come nel dungeon del mago folle, da un mazzo, ma venivano rivelati i mostri, che ne so, c'erano questi tipi di mostri che vi faccio vedere, e il dungeon master al momento dello spawn, poteva metterli dove voleva, con l'unica regola che non poteva metterli nelle caselle davanti alla porta, perché se no era troppo facile farli già trovare corpo a corpo. L'unica regola era quella, però poi li poteva mettere dove voleva, e non nelle stanze chiuse. Nelle stanze chiuse solo se la missione lo diceva, allora lui ce lo metteva una volta che veniva aperta la porta. Comunque, mettiamo caso che in questa stanza ce n'era quattro, ne metteva, che ne so, uno qui, uno qui, uno qui, e uno qui. Quando si apriva una stanza, quindi c'erano tutti quanti i mostri, mostri le cui carte dovevano essere andate a pescare dal gruppo dei mostri, che ora vi faccio vedere, e, cosa importante, dietro vedete ai mostri c'è una lapidina con un numero, per farvi vedere, perché ciascun mostro aveva sempre la sua carta collegata, e anche nella carta in cima c'era scritto il numero del mostro. Quindi, prendendo questo qui, ad esempio questo non morto, dietro nella lapide mi dice 5. Io vado a cercare la carta dello scheletro 5, e la metto in campo. Li sposto, tanto per farvi vedere un pochino meglio, levo anche il token del tesoro e lo metto qua giù, quindi mettiamo caso che quello che è stato trovato in questa stanza, che è più vicino, è questo scheletro. Questo scheletro come recita la lapide dietro, al numero 5, ed ecco la sua carta, scheletro 5. Questo era stato fatto perché, per anche riconoscerli più facilmente all'interno. Magari dico, l'ho ucciso, qual è la carta che devo levare del mostro? Dovevi levare ovviamente la carta qui. E ci dice, uno, vedete, c'è un teschio, quindi il livello del morto, perché vi ricordo che il chierico, il qui presente chierico, li può scacciare, usando l'attacco, ovviamente se usa un'azione, scacciare non morti. E per scacciare non morti, devi tirare il dado per scacciare non morti, che ci sono disegnati dei teschi. Per riuscire a scacciare non morto, bisogna fare un valore pari a quello che c'è scritto sopra. Quindi nel caso di uno, basta soltanto un teschio. Potrebbe anche fallire. E se riesce nella prova, questo non morto è bloccato. Quindi per ricordare che non morto è bloccato e ha perso un turno, semplicemente prendete la carta e giratela tappata così. Vuol dire che questo non morto perderà il suo turno, non potrà agire. Scacciare non morti non li distrugge, ma li paralizza. Poi il livello di armatura, ovviamente del mostro, come i personaggi, quindi bisogna fargli più di una ferita per fargli nemmeno una, come vedete qui, perché una la assorbe sempre. Il livello di punti ferita che ha, il movimento, la descrizione, o nel caso abilità speciale, e poi i dadi che va a tirare. Quindi vedete, i dadi che lui tira sono, ad esempio, un dado giallo, e un errore, che tanti mi hanno fatto presente, il dado giallo e il dado blu. Ma il dado blu non esiste. In Dungeons & Dragons, un'avventura fantasy, è il dado viola. Si vede che fu un errore di stampa lì per lì, quindi quando vedete il dado blu, metteteci il dado viola, proprio perché non esiste. Questi sono tutti i dadi del gioco, e il dado blu non c'è. Quindi era proprio un errore, si vede, di produzione, vabbè, sono cavolate. E questi sono i dadi che tirerà il mostro. Quando si va a fare un combattimento, semplicemente, si va in corpo a corpo, con il mostro, ortogonalmente, quindi così non li siamo in corpo a corpo. Li si va in corpo a corpo e si tirano i dadi che bisogna tirare per la propria arma. Nel caso del, del Chierico, lo metto una casella più in qua, perché vi ricordate di partenza aveva la balestra, lui tirava il dado nero, che è il dado che gli può dare un effetto speciale, e in più tirava due dadi gialli. Quindi si andavano a tirare i dadi, si andava a vedere se usciva la stellina, perché uscendo la stellina sulla balestra divina, ci diceva, se esce la stellina, c'è questo effetto, recuperi un punto incantesimo. Quindi era una cosa buona, se ci pensate, perché comunque aveva recuperato un punto incantesimo sulla sua scheda. Comunque sono uscite due spade, quindi io tirando due spade avrei fatto una ferita al non morto. Il morto, che è qui, vedete, ha un livello di ferite di 4, quindi voi prendevate direttamente un pallino rosso e glielo mettevate sulla scheda, così, a ricordare che lui aveva subito una ferita, o potevate mettercela anche tutte e quattro e scalarne uno. Secondo me è più veloce così, vabbè, poi comunque decidete voi. E lui aveva subito un punto ferita. Quando arrivava a 4, il non morto era distrutto. Scacciare non morti costa un'azione, attaccare costa un'azione, muovere costa un'azione, cercare trappole costa un'azione, tutto in questo gioco costava un'azione. Se ad esempio il chierico non si fosse mosso, poteva tirare direttamente due volte e ancora una volta se andava a vedere le spade che uscivano gli aveva fatto altri due punti ferita, uno assorbito dall'armatura e il secondo preso. Poi, una cosa bella che non vi ho fatto vedere appena aperta la porta ma è la cosa secondo me più interessante, le due cose. Uno, non si tira per la difesa. La difesa dei vostri personaggi è il valore di armatura che hanno, quindi non c'era un dado per la difesa in questo gioco, ma il mazzo dell'iniziativa. Quando veniva aperta la porta, ancora una volta, porta aperta e il Dungeon Master mette tutti quanti i mostri come vuole lui, a parte quelli non ancora rivelabili, li metteva come voleva lui, c'era il mazzo dell'iniziativa. Ragazzi, quello che vi sto per far vedere è una cavolata, mamma e mi garba da morì. Si mescolavano le carte e vi ricordo che ci devono sempre essere in campo quattro avventurieri e il Dungeon Master, quindi anche se giocate in due, un giocatore che fa gli eroi li deve muovere tutti, ma tanto vabbè ragazzi è una cavolata, non è che c'hanno duemila mazze o duemila ose come si è visto in Doom. Mescolava le carte, se ne teneva quattro per sé, perché era una per ciascun eroe e ne dava una a Dungeon Master. Quindi, si apriva la porta, si faceva tutto il setup della stanza, quindi mostri, colonne, tesori, porte chiuse, tutto quello che c'era da fare, finito il setup e Dungeon Master diceva io ho finito il setup, passiamo all'iniziativa, si potevano girare le carte. Questa era la carta di Dungeon Master che gli andata di sculo ha avuto un 5, quindi vuol dire che muove per ultimo e il giocatore doveva affidare una carta iniziativa a ciascun eroe, quindi magari a lei che è la ladra girava la carta che gli aveva affidato ed è 1, lei si muoverà per primo, al guerriero 3, al chierico 4 e alla maga 2, quindi come abbiamo visto questo muove per primo, fa le sue azioni, fa quello che deve fare, lui, lei si muove per secondo, il guerriero si muove per terzo, il chierico si muove per quarto e per ultimo tocca al Dungeon Master con tutti i suoi mostri, quando toccava al Dungeon Master i mostri bloccati da scacciare non morti, ovviamente solo su non morti non vale su altre creature viventi, venivano bloccati, quindi la carta veniva tappata, questo non poteva fare nient'altro che prende le botte e anche quando erano bloccati avevano comunque diritto a scalare col tirarmatura e poi tutti gli altri mostri venivano mossi in corpo a corpo per come voleva il Dungeon Master e per come era giusto fare gli attacchi nella sua determinata tattica di quel momento lì, quindi il gioco ragazzi è tutto qui, quando si usavano incantesimi come nel caso quello del chierico che riporta in vita un eroe morto andavano scalati dal castante che lanciava tale incantesimo andavano scalati i punti magia, quindi i punti magia li abbassavate dalla scheda, il gioco era tutto qui, poi ovviamente nel manuale del Dungeon Master venivano elencate quali erano le tattiche per vincere la partita, di solito e ribadisco di solito ma a volte cambiano, la partita era che gli eroi dovevano fare l'avventura e anche se uno solo di tutti e quattro riusciva a portare a compimento la missione aveva vinto, quindi anche se tutti non è come in altri giochi dove se uno muore e a Sword and Sorcery e non si può riportare in vita la partita è persa, qui no, se un eroe era morto non c'era problemi, anche l'ultimo eroe rimasto in vita doveva semplicemente riuscire a fare la missione, di solito il giocatore del Dungeon Master doveva uccidere tutti gli eroi, quindi quando lo ammazzava tutti e quattro era finita la partita, ma a volte anche lui aveva qualche missione più particolare. Ragazzi, vi dico soltanto una cosa, se avete sia questo gioco che HeroQuest e riuscite a levare i token dei tesori e i token delle porte e ci riuscite a mettere le porte di HeroQuest e i token tesoro e gli scrigni del tesoro di HeroQuest, questo per me diventa uno dei Dungeon Crawler più belli al mondo. Questa regola qui delle carte è una cacchiata disumana però mi garba perché Dungeon and Dragons si muove tutto sull'iniziativa. Quindi più che andare a pescare da un mazzo per vedere come sarà l'iniziativa era bello la casualità di queste carte. Una cavolata ma che secondo me in un Dungeon Crawler ci sta veramente d'addio. Ragazzi, in conclusione questa è Dungeon and Dragons un'avventura fantasy della Parker edizione 2003 ed è un gioco rarissimo ve l'assicuro non a livelli di HeroQuest però anche HeroQuest ormai se ne trova soltanto su Facebook annunci market ne vede uscire due o tre al giorno comunque a livello di rarità va sicuro e raro come HeroQuest a livello di prezzo il mercato poi lo fanno i compratori ovviamente non c'è un mercato tipo le carte di Magico o Bolaffi per i francobolli però se HeroQuest è una copia usata e tenuta bene spaccata non vale nulla però usata e tenuta bene di HeroQuest se si va dai 120 ai 150 200 se è chiusa in celofanata e tutto vi assicuro che anche questo gira intorno ai 100 tranquillamente se è tenuto da paura come l'edizione che vi ho fatto vedere la copia che ho avuto io da quel ragazzo che è tenuta veramente mostruosamente quindi lo ringrazio ancora una volta e le espansioni ancora meglio del gioco base quindi se vi posso dare un consiglio assolutamente consigliatissimo ha delle meccaniche vecchio stile però cioè sono belline sono intriganti funzionano bene poi non voglio dirvi una cavolata ma alla bellezza soltanto il gioco base di 11 avventure il gioco base più le espansioni ce ne hanno altre tipo 5 o 6 per espansione dunque virtualmente ci giocate veramente per mesi mesi e mesi e poi come nel buon vecchio HeroQuest che l'ha preceduto c'era la possibilità di stampare questa pagina per farsi le avventure in casa le miniature sono tante se riuscite a trovarlo con l'espansione è meglio però comunque tanto ascoltate è un gioco che anche questo qui va molto sulle home rules perché potete prendere una miniatura che avete in casa potete al computer con un po' di photoshop prendere una carta di un mostro modificarla un pochino semplicemente modificare l'immagine qui i valori sotto e magari ci inserite anche un mostro che in quel gioco non c'era vi fate l'avventura in casa comunque è un gioco veramente bello divertente immediato nello stile di Dungeon & Dragons entra nel dungeon ammazza il mostro ammazza il boss arraffa il tesoro e scappa quindi bellissimo ve lo consiglio da morire e se le devo dare un voto perché a me piacciono i giochi in un certo stile Dungeon Crawler deve essere veloce qui userete 4 avventurieri non ne accorgerete nemmeno perché è fatto benissimo e veloce non c'è da stare impazzire fra miliardi di token eccole vi tutti i token del gioco i punti ferita anche i dadi sono pochi quindi se le devo dare un voto assolutamente gli do un 9 su 10 meritatissimo bello bello da morire non deve mancare nessuna libreria e se a qualcuno interessa ne ho una copia in vendita quindi se a qualcuno interessa fatemelo sapere mandando o commentando sotto il video direttamente o mandandomi un messaggio privato qui su youtube o anche perché li potete mandare o anche direttamente sulla pagina facebook qui vedete la scatola in tedesco non vi preoccupate la scatola in italiano perché ce l'ho sia con la scatola in tedesco che c'è una anta sostituitiva comunque ve lo mando tutto quanto in italiano non ve lo mando davvero con la scatola in tedesco gioco completamente tradotto in italiano tenuto perfettamente come quest'arte lo stesso vi ci potete fare l'unboxing solo il fronte il retronoma il fronte della scatola è in tedesco perché quella era un po' usurata ma ce l'ho una sostituitiva quindi se vi interessa e vi è gravato questo video e lo volete aggiungere alla collezione contattatemi perché ce l'ho una copia in vendita eccola qui nel caso comunque l'avessi venduto lo scrivo nel titolo così lo sapete direttamente anche evitate magari di fare domande ve ne accorgete subito dal titolo però ragazzi è un gioco consigliatissimo fidatevi compratelo perché per gli amanti di dungeon crawler non vi deve mancare fatemi sapere cosa ne pensate con un commento sotto non vi posso lasciare il link a video dove acquistarlo perché non si acquista è fuori produzione da quasi 20 anni da 17 anni però ve l'ho detto si trova tranquillamente a gire poi se lo volete ho una copia in vendita quindi contattatemi ciao ragazzi alla prossima